Eeeh what's up a tutti c'è ormai benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con un like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vi andiamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Ed eccoci qua di ritorno signori e signori dopo che la volta scorsa abbiamo assistito ad altre cose assolutamente epiche Infatti alla fine assieme a Mimir, nuovo membro della ciurma se vogliamo chiamarlo così Siamo riusciti a tornare al lago dei nove per far sì che lo stesso Mimir appunto parlasse col serpente del mondo Fortunatamente Mimir conosceva la lingua parlata dallo stesso serpente Quindi sono riusciti a comunicare, il serpente ha detto che ci avrebbe aiutato a raggiungere Jotenaim Il punto è che ragazzi per poter aprire insomma il varco per arrivare a Jotenaim ci serve un certo tipo di magia Legata ad un certo tipo di scalpello Lo scalpello di un gigante E quindi alla fine Mimir ci ha condotti al luogo dove si trova il cadavere di questo gigante E nella sua testa è appunto lo scalpello la cui punta ci serve È stato veramente tutto incredibile come lo è praticamente sempre Non so cos'altro aspettarmi da questo gioco quindi non vedo l'ora di continuare ragazzi Andiamo a giocare Quindi l'ultima volta ragazzi c'eravamo lasciati qui Io avevo già spostato questo masso ma lo risposterò Sì sono venuto qui in missione diplomatica tempo fa per mediare tra Asgard e Vanahal Nella guerra Così tanti morti Non sapevo però che Thor fosse già andato a massacrare i gigante Cosa c'è da? Gatti una guerra tra te Nulla ragazzo È questa la tragedia Non si erano schierati Ma la paranoia di Odino è inferiore solo alla sete di sangue di Thor Sì questo l'avevamo già sentito l'altra volta Purtroppo appunto ragazzi i giganti non avevano fatto niente di male Però ovviamente siccome ci deve stare sempre quello che rompe un pochettino Le scatole anche a chi si vuole fare i fatti propri Hanno subito quel che hanno subito Quindi vediamo un pochettino Di qua si scende ragazzi Di qua si scende Wow mi chiedo perché Cioè alla fine Kratos aveva detto di aver avuto un'idea Per riuscire a raggiungere la punta dello scalpello Che però purtroppo è sotto il ghiaccio E mi mi ha detto guarda manco Thor con il suo martello riuscirebbe a romperlo E Kratos ha detto E certo perché Thor è uno scemo E quindi wow Mi chiedo che idea geniale incredibile Abbia avuto Per poter definire Thor uno scemo Ma questo è il martello Tra l'altro non ci scordiamo ragazzi che siamo vicini Proprio vicini al cadavere di questo incredibile Gigante Allora qualcosa dovremo pur fare Con questa cosa Qua comunque potrebbe saltare in aria questo ghiaccio Ma io sto coso lo posso smuovere Scusami Qua ci si potrà arrampicare Ma ah lo posso smuovere Ok Allora si vai Boom Troppo tardi Uh Ci siamo quasi Ammappete Ok allora lo ricolpiremo ragazzo Non ci faremo intimidire Vai 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 E' troppo No Troppo tardi Niente Se non avessi sbagliato mi era due volte prima Sarebbe già esploso Va bene Pronto ragazzo vai Oh cavolo Abbastanza spaventosetta questa cosa eh Bene Un'altra cinghia Perfetto Vuole far cadere il martello E questo è quello a cui sta pensando Davvero Pure se non fosse questo Comunque ragazzi La situazione è abbastanza Abbastanza rischiosetta direi Perché Ok Immaginavo di poter far crollare sto ghiaccio E' rischiosa ragazzi Perché cioè Se cade quell'affare Io non posso immaginare Cosa succederà Comunque Dei suggerimenti che mi avete dato ragazzi Appunto cercherò Per quanto riguarda L'equipaggiamento Eccetera eccetera Di concentrarmi di più Su forza difesa E runico Appunto questi saranno gli aspetti Che potenzierò il più possibile Ragazzi Perché sono quelli che Mi interessano maggiormente Perlomeno Stiamo salendo Quando dovremmo scendere Pensa Beh La punta è sotto molti strati di ghiaccio Il calore non funzionerà Ok Già E non c'erano cristalli esplosivi Che avrei potuto colpire Quindi escludiamolo Già Ok Potremmo rompere il ghiaccio Ma avremmo bisogno di qualcosa di molto Ah Ok Ok Quindi dobbiamo usare Il martello stesso del gigante Per far crollare E tutto Cioè per spaccare il ghiaccio Comunque ragazzi Da notare Queste inquadrature meravigliose Cioè Noi così minuscoli Proprio Tipo formichine Che ci arrampichiamo Su questo martello gigantesco E' sempre tutto troppo stupendo Ok Lì c'è la testa del gigante Oh Shit Ok Ci possiamo arrampicare qua Come può finire il martello vicino allo scalpello? Non può Perciò lo facciamo cadere E poi vediamo che cosa succede Ok Pare ragazzi Il piano include molta fortuna Sei libero di proporne uno migliore Pare mi abbiano letto nel pensiero Perché io stavo pensando giusto a quello Nel senso che la testa del gigante E' là dietro Il martello cadrà qua davanti Per cui mi stavo Giusto chiedendo Ma Se il martello cade di qua Comunque non cade vicino allo scalpello Quindi che succederà? Eeeh Lo vedremo solo vedendo Adoro Oddio Non vedo l'ora di vedere che cavolo succede Che figata Ok Siamo quasi in cima ragazzi Ci siamo Ok Stiamo davvero per farlo Aaaaa Reggetti Oddio Aiuto ragazzi Reggetemi le vostre poltrune Le vostre sedie E prendete un paio di mutande nuove Ok Non promette niente di più Salta Ok Non è funzionato Non è scesimo Mamma mia ragazzi Ho i brividini Già adesso Raggiungi la testa del martello Dobbiamo farlo cadere Perché adesso si abbiamo rilasciato la cinghia Ma si è appoggiato da questo lato Quindi E' stato pressoché inutile Noi troveremo il modo di farlo cadere Perfetto Intanto apriamo questo forziere Incredibile Fantastico Cosa c'è qua dentro Cintura da guerra del creatore di rune Uh Favorisce il potere runico Giusto quello che mi potrebbe interessare ragazzi Ovviamente aumenterebbe di parecchio il runico Di qualcosina di pesa E diminuirebbe però un pochettino ragazzi La forza Però magari questa cosa La possiamo compensare in qualche modo In questo non possiamo incastonare niente Mi sembra di vedere Ok Il castone è presente soltanto negli spallacci ragazzi Purtroppo non ci sono altri castoni ragazzi Che mi aumenterebbero di un po' la forza Quindi purtroppo non posso farci niente E per quanto riguarda le abilità Ci sono abilità nuove per Atreus Questo è interessante Le frecce shock provocano un grande shock Ai nemici Lo comprerò Questo pure ragazzi interessante Aumenta notevolmente la velocità di utilizzo Dell'artiglio E per ora Direi che siamo a posto così Dai Perfetto Allora Ho meno di forza ragazzi Però così posso sfruttare un pochettino di più Gli attacchi runici Mi basta Ricordarmelo Una masca di sabbia Ma non ci arriviamo La vedo Entrambi no Aspetta 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 Allora intanto Prendiamo questa gemma vitale Perché avevo la vita abbastanza messa male Adesso che ci faccio caso Ma possiamo passare di qua Perlomeno tu Puoi passare di qua Vai ragazzo Fai il tuo dovere Sei piccolo Ci passi Opla Perfetto Che dice Che cosa dice Quando il tempo è confuso indietro La via avanti va indietro In che senso va indietro Questi simboli Le stagioni Sì Ma sono in disordino Non dovrebbe essere Inverno, primavera, estate, autunno Perché dall'inverno Una canzone che cantava mamma Oh La conosco Inverno Zitta testa Non sopporti la musica Capito No non sopporta proprio Che la gente parli È diverso Allora Inverno Che ha detto inverno Primavera Estate, autunno Così dovrebbe essere Giusto? Quindi devo spostare Quegli affari Inverno Quale sarà la primavera? Sarà quella con la foglia Immagino Perché ovviamente Le cose fioriscono in primavera Estate Sarà il sole Ah no Lì c'è un fiore Ah allora Il fiore sarà la primavera Sì L'autunno Saranno le foglie Le foglie che cadono Quindi Estate Sarà il sole Ragazzi Per forza Autunno Ok È giusto? È giusto? Ok Pare che abbia funzionato Ha funzionato? Non ha funzionato No Il punto è che durante l'anno Ragazzi Cioè la prima stagione Che si incontra Sì si potrebbe pensare Che è l'inverno Ma se parliamo di mesi L'inverno inizia a dicembre Quindi E sarebbe Proprio l'ultima Quindi sarà Primavera Estate Autunno Inverno Proviamo così Primavera Estate Ma Ma qua non c'è l'autunno Scusa In questo coso qua Non c'è l'autunno Quindi Questo dovrebbe essere Un indizio Qua non c'è l'autunno Ragazzi Quindi non è l'ordine giusto E che Quale cavolo è L'ordine giusto Allora Non è che magari Il sole Sta ad indicare La primavera Nel senso Che arriva La bella stagione E quindi Il fiore Sta per l'estate Mi sembra un po' Assunto Proviamo così Indietro Ricorda Cosa Ovvio L'enigma La risposta è al contrario Ah Non è da sinistra a destra Ma da destra a sinistra L'enigma L'enigma è al contrario Proviamo adesso Ragazzo Oh Madonna santa Oddio What the fuck Oh Vai 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 Festa Com'è possibile Magia temporale Credo È pericolosa Gli antichi Dei Vanir Giocavano Con l'abilità Di fermare il tempo Era la preferita Di New York In effetti E poi hanno smesso Perché Beh Se fermare il tempo Impediva al sole E alla luna Di sfrecciare nel cielo Fortunatamente però Non impediva i rubi Di inseguirli E tentare di azzandare Quindi hanno deciso Di non giocare Oh Oh Shit Cioè penso io Non ti preoccupare Figliolo Non mollare Ci manca solo Che la piattaforma Colle di nuovo Ci rivedo Arriva Oh Adoro Vai ragazzo Vai ragazzo Non ci provare Ok Bello Mamma mia Che è un dadurco Pazzesca È stato Fortissimo Potenziando il runico Ragazzi Gli attacchi runici Cominciano a diventare Devastanti Quasi Scrivi Ok Vai 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 È infatti Era quello che temevo Argento Minchia Ci metteremo una vita Ad arrivare Più in su È lenta È lenta Eh Oddio Sta crollando Tutto Adoro Quest'attacco È fantastico Vai Non ti preoccupare Ragazzo Ci pensi Però tu Vai ad attivare Qualcoso Ragazzo Perché Te ne devi preoccupare Tu Io ho capito Che mi vuoi dare Una manina Però vai Forza Forza Vai veloce Sulle tue gambette Ok Stiamo Prendendo un bel po' Di argento Ragazzi Oddio Ancora Oh no Gli incubi No Di nuovo Sì Sì Non ci danno Tregua Oddio Vai Ok Ciao Cattivoni Ciao Cattivoni Sì Arrivo Anche per voi Arrivo Vai ragazzo Vai Senza paura Oh la madonna No La stregaccia No Oddio Ma quanti sono Vai Vai Boom Bitch Maledetta Strega Fermala Ah Mi ha scorreggiato Addosso Oh M sta a picchiare Di continuo Sta stronza Maledetta Oddio Sta crollando Sta crollando Figliolo Ah Colpiscila Oddio Mo crolla Oddio Mo crolla Regà Mo crolla Regà Oddio Vai ragazzo Vai 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 Mamma mia Che ansia Uh Ho fatto Giusto In tempo Ok Uh Ragazzo Eh Mi colpirei Per fare Esplodere Ma Oddio Padre La vasca di sabbia È sparita Precipichiamo Oddio No 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 Non precipichiamo Fagli esplodere Ragazzo Fagli esplodere Non so a che pro Ma fagli esplodere Dove Dove Salta Dove Vai Mamma mia Sempre Sempre All'ultimo Secondo Ragazzi Sempre col fiato Sospeso Adoro Adoro Tutto Troppo Uh Siamo Arrivati Ben fatto Grazie Non a te Non diceva te Stiamo scherzando Brontolone Mi mir Già L'ha inquadrato Gratos Ovviamente Siamo arrivati Alla testa Del martello Signore Signori È arrivato Il momento Di far Succedere Un macello Oddio Là in fondo C'è la testa Del gigante Allora Se gli diamo Una bella Spinta Come lo liberiamo Si spinge Ecco Infatti Se gli diamo Una bella Spinta Potremmo Farlo finire Anche proprio Sulla testa Del gigante Bisogna vedere Se riusciamo A spingere Abbastanza Forte È arrivato Il momento Di scoprirlo Ma Oh Fa provare Anche a Atreus Che tenero Oddio Oddio Lo sto spingendo Davvero Come scendiamo Saltiamo Che Forza Non Non aver paura Per chi Aver paura Ti tengo io Ce l'ha fatta Non mi dire Tu sei pazzo Lo sai Tutto bene Bene Dovremmo muoverci Oh Cioè ragazzi Dai 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 Ma di che stiamo parlando Oddio C'è un brimidabo Timidi Ce l'abbiamo fatta Davvero sfondare Il ghiaccio Vedo la punta Dello scalpello È lì Sì Adoro No Vabbè Mentre precipitano Kratos Che gli dice Non avere paura Certo Chi ha paura Allora Andiamo Va Qua sotto C'è un forziere Ma posso scendere Da sotto Da qua No Mi sa proprio di no Posso andare di qua Però Oh 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 Ormai è tutto pericolante Eh Non mi dire Sono i fili di Thor Il ragazzo è tuo Un par de palle Non ora Oddio Che guaio Ragazzi Che guaio Immenso Cioè Sono arrivati Fino a qua Porca vacchetta Ci hanno pure trovato Andiamo ragazzo Va Erano i due Che stavano con Baldori I suoi nipoti Se Magni E modi Magni Bel nome Ah Ottimo Non sono più bambini Non hanno scuse Non lo vedranno nemmeno Aspetta Meatreus Beh Sindri ci ha dimostrato Che può tranquillamente Nascondersi Comunque Quindi Non sono preoccupata Per lui Quindi è arrivato Il momento di andare Comunque Dobbiamo raggiungere La benedetta punta Di questo benedetto Spalpello Ragazzi What the fuck Cosa c'è qui Che puzza Ah La grande sala da pranzo L'invidia di tutta Midgard Mi ricordo che qui c'era un grande candelabro Ravvivava molto la stanza La Ah si Lo vedi Lo vedi Guarda Ti giro E qua E qua Il grande candelabro Niente qua Ovviamente la porta Non si può aprire Ma stavo notando Che ci sono delle creature Congelate Qua vicino Comunque vai Colpisci pure ragazzi Proprio non ce la fai A trattenerti Adora distruggere cose Cioè voglio dire Al fine è strata Il Kratos Se non le distrugge lui Fatto sta che Non credo sia proprio Una grande idea Far esplodere Quel ghiaccio lì Perché probabilmente Il trono dell'ogiarle Era oltre quel muro Di ghiaccio Sì ma Probabilmente Quel coso si risveglierà Ho detto bene Oh è caduto Il cristallo Molto bene Ma ci serve Ah Ne abbiamo preso Un pezzo direttamente Va benissimo Ma Cioè se facessimo Esplodere di nuovo Quell'affare Che succederebbe Ragazzi Scusate Quello che temevo Meraviglioso Davvero meraviglioso Aspetta eh Aspetta eh Facciamo attenzione Oddio Oh Incattivito Moltissimo Giustamente È rimasto Tanto tempo È rinchiuso Lì dentro Congelato Ci sta Mi sembra normale Voglio dire No Beh Sì 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 Uuuu 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 Oddio che cavolo È st'altra cosa Eeeh È un lupo Un povero lupo Ci è capitato Qui più sbaglio Scusa bro Però Stocca pure a te Sulle chiappe Sulle chiappe Si è arrabbiato Tantissimo Non so se questa cosa Ragazzi Cioè se questa cosa Era opzionale o meno Fatto sta che ormai L'ho fatta Siamo Ecco fatto Ragazzo smettila di fare queste battutine Non fanno ridere nessuno Allora Allora Nuova voce Re barba di pietra Mamma diceva che Re barba di pietra Si guadagnò il suo titolo Semplicemente Perché nessuno Riuscì a strapparglielo Era abbastanza arrogante Da definirsi re E abbastanza forte Da dimostrarlo Non ha mai perso Uno scontro Finora Beh Doveva incontrare Prima Kratos Mi pare ovvio Brancoli cinghiali Ah Nuova evocazione runica Per Atreus Però penso che per adesso Ragazzi terrò comunque I falchi Quindi Argento Un bel po' Acciaio E va bene così Ma Quindi Areasso Adesso In effetti Come Come usciamo Da qui Questa è proprio Una bella domanda Una bella domanda Ci dovrà essere Un modo Non mi dite Che devo far esplodere Anche quest'altro Ghiaccio Eh che cavolo Eh Eh vabbè Ciaone Pure gli incubi Ci si mettono Incubo 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 Ehi Che scossumato Ehi Aia Sore Taya Mamma Mannaggia La miseria Ci mancava Il troll Della ceppa E ci mancava Pure il incubo Di ghiaccio Aspetta Prova Stacca bello Eh Boom Ok Tocca pure a te Caro Vai Vai Attacca pure Ecco fatto Ah che bello Ah che bello Che bello Simbolo della minaccia Argento Quest'altro Nuova voce Hanno dimensioni simili a quelli normali Possono coprire lunghe distanze Con un solo salto Inoltre Puzzano da fare schifo Perché sono sempre così furiosi Beh perché puzzano talmente tanto Che gli da fastidio La loro stessa puzza Probabilmente Comunque non ci resta ragazzi Che far saltare in aria Anche quel terzo pezzo di ghiaccio Mi sa Non so ripeto Se queste cose sono opzionali Ma E la Ciao belli We Super incredibile Attacca runic Vai Ammazza come l'abbiamo finito Era già a terra Abbiamo finito di ammazzarlo Ciao bello Ciao bello Anche a te Anche a te Anche a te Aspetta che arrivo Fermate un po' però Ok vedi Ad averlo saputo Avrei rotto direttamente Questo pezzo di ghiaccio Qua a sinistra Wulfair Feroce Sembra un tipo di Wulfair Più forte E più intelligente Ciò lo rende Molto molto pericoloso Sono felice Che la corda del mio arco Si è infuso in magia Altrimenti non sarei mai riuscito A rucciderlo E per questo che ci portiamo Dietro l'artiglieria Pesante ragazzo Perfetto Possiamo passare di qua ragazzi Abbiamo trovato la via giusta Andiamo Andiamo a vedere adesso Di arrivare Uh E questo poveraccio qua Morto assiderato Va bene Io vado Ciao caro È stato un piacere C'è qualcosa Beh sembra un martello Su un scalpello Ah eccolo Eccolo Ho detto martello su scalpello Semmai su incudine Comunque Eh i figli scemi di Thor Eh ok Vabbè Negozio Ma possiamo migliorare qualcosa Si può migliorare L'armatura Dei fianchi Ragazzi Questa cosa Non mi dispiace Dirò sinceramente Perché comunque Ridà quel punticino In più alla forza Punticino a runico E più sei Alla difesa Perché no Dai Potenziamolo pure Davvero perfetto Ok Posso potenziare ragazzi Anche l'armatura Per il busto Che gli dà 9 alla difesa 2 a runico E uno alla forza Perché no Attimo Attimo Concordo Veramente molto bella Molta molto bella Va bene Allora Per adesso Direi che lasciamo tutto così Abbiamo questo forziere Non so perché Ma mi sembrano Veramente due scemi Ha ragione Sindri Sono davvero Due idioti Da come parlano Non ho molta stima di loro Pronto Adreus Abbiamo liberato pure Il forziere Quindi Ritorniamo di sopra Ah Prendo anche questo Non ho molto altro da fare In questo momento Molto bene Vabbè Fate le vostre cose Che io intanto Apro qua Vediamo cosa c'è L'interessante In mezzo ai resti Imputriditi Acciaio di svalta Acciaio di svalta Quello che cavolo è Va benissimo Andiamo ragazzo Va Non abbiamo più tanto tempo Da perdere Anche perché qui sta Per crollare Tipo tutto Che bello Ok Ok ragazzi Quella è la punta Dello scalpello Ci siamo Siamo arrivati Spero nessuno ci mette Bastante tra le ruote Recupero un pezzo Dello scalpello Ci siamo Finalmente Non ci credo Sembra un sogno Fai presto Prendi un pezzo Prendi un pezzo di scalpello E filiamocela Prima che se ne accorgano Tu Ragazzo Arrenditi Il padre di tutti Lo esige No Bene Questa battaglia è mia Ragazzo Vai Oh no E tu dove credi Di andare Oh no Fratello Il mostricciatolo Ha un arco Ora che cosa facciamo Porca Caccia miseria Ragazzi Mo E' un guaio Grosso Grosso Guaio Ok Vado Vado giù Di unico Intanto Ok Dobbiamo E Zack 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 Ma hai fatto male Non toccate il ragazzo Bastardi Prendetevela con me Con me Pezzi di merda Andate Non sarei Boom Aiuto Oh è a terra È a terra Colpiscilo Oddio Oddio Stai dietro di me Perché ci cercate Cosa vuole Odino Non so Non mi importa Vieni Penso santo Basta tenere la mano Oddio Zitto Non chiamarmi così Ansia Porca miseria Ah Mannaggia santa Devo seguire le frecce Cavolo Sare la merda Ah Stai buono Stai buono Non ti far Agitare Da sti due Dementi Attento Ragazzo Porca miseria Quanto dura Quanto dura sta cosa Oh Perché sto facendo Veramente schifo Via Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Ok Aia Ma ragazzo Non vi è incredibile Vabbè Oddio No 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 Non toccare il mio ragazzo Bastardi Come possono prendersela con un ragazzino Quello è che lui si dà da fare Ragazze Lo picchia Non direi mandare a dire Mammaggia Fermo 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 Petto di merda Ne ho pure per te Stronzetto Ehi Ma quest'altro lo devo colpire Che io devo fare Oddio eh No un'altra volta No no Un'altra volta L'attacco incredibile Ti ha sfregiato per far si che le sorvigliassi Non nominare mia madre Non nominare mia madre Non ascoltarlo ragazzo Vuole solo provocarti Dai Che schifosi I figli di Thor Vi distruggerà E ciao I figli di Thor Si accomodino Oh Mimir Gliel'ha detta Bravo Mimir Bravo Bellissimo Ma pure sta fase Però ragazze Bisogna riconoscerla Ok Mi serve gemma vitale Assolutamente Oddio No 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 Non mi colpirai Oddio Mannaggia Ma Non resisterete ancora a lungo Mannaggia La miseria Eh Sono grossi questi Ragazzi eh Beh Non sarebbero i figli di Thor Se no Pezzo di merda Dai che ci siamo Dai che è finito Dai Oh daffa Su 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 Approfittiamo per accoppare Quest'altro ragazzi Vai Sì Ci siamo Ci siamo Oh daffa Razzasse La madre Sarà stata una troietta Per cercere Con il suo Comune Sti ammazzo Altre è un No 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 Eh Mamma Mi avete rotto ma come non hai idea di quello che meglio di buttare non è vero ragazzo la tosse il sangue è malato ha bisogno di freya no ce la faccio bravo ragazzo sto bene vedi ok ragazzi dovremmo tenerlo d'occhio questa è stata bella abbiamo ucciso uno dei figli di Thor e questo non si riprenderà come ha fatto Baldur perché questo non è invulnerabile è morto e basta il primo genito di Thor usava un'enorme spada a sfruttare il potere dei fulmini ed era molto cattivo mio padre l'ha ucciso sapete che vuol dire ragazzi questo vero? che sarà un bel guaio è Modi il figlio più giovane di Thor è un bastardo può lanciare fulmini e sa usare mazza e scudo è scappato via dopo che mio padre ha ucciso suo fratello Magni ma scommetto che lo rivedremo ancora la prossima volta lo ucciderò vabbè fatto stare ragazzi che mo questa cosiddetta malattia di Atreus sembra essere tornata ok lega di Leiptre come cavolo si legge si usa per potenziare pomi ah che arricano danni da shock questo invece fiamma ghiacciata ottimo potremmo potenziare il Leviatano ragazzi adoro potenziamento ascia disponibile è stato pazzesco pure questo ragazzi eh cioè sfidi i figli di Thor e ne uccidi uno fai fuggire l'altro però adesso sinceramente sono in pensiero per lui che sarà sta malattia? ha detto Mimira ha bisogno di Freya forse è l'unica che può curarlo finalmente prendiamo un pezzo di sto benedetto scalpello ancora ah no basta così ottimo ce l'abbiamo ragazzi finalmente basta dovrebbe bastare così potremo incidere la runa del viaggio per Jotunheim e arriverete a destinazione ah le porte chiuse con la magia che abbiamo visto ora si possono aprire come quella dietro l'angolo ottimo con lo scalpello potete attraversare quella porta questa sì che è un'ottima notizia trova il punto giusto con L premi L2 per colpire oh ok si capisce se è il punto giusto perché il pad migra perfetto perfetto il punto potrebbe ritrovare tutte quelle che abbiamo già incontrato ragazzi questo sì allora signore e signori anche per oggi direi che abbiamo visto abbastanza alla fine siamo riusciti a raggiungere questo benedetto scalpello non non semplicemente perché ovviamente ragazzi ci sono parati di fronte non solo semplici nemici ma alla fine anche questi benedetti figli di Thor che sono riusciti a trovarci però non se la sono vista bene perché Kratos ha ucciso uno dei due quindi mi chiedo quando Thor lo scoprirà uno dirà vuol dire se lo scoprirà certo che lo scoprirà ragazzi perché l'altro figlio è vivo quindi mi chiedo che diavolo succederà adesso ha detto Mimir che Thor è il più cattivo degli Eysir quindi oddio aiuto aiuto va bene in ogni caso adesso siamo riusciti finalmente ragazzi a prendere questa benedetta punta di questo benedetto scalpello il che significa che potremo appunto incidere la runa per poter arrivare finalmente a Jotenaim dove appunto ci aspetterà la cima più alta che succederà chi vivrà vedrà come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento questo video termina qui grazie a tutti un bacione vi abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina ciao